Ecco qua, la zona un po' più fuori dal centro, ci sono i Galli. La zona è vedato, vedato il centro di Habana. Vedato, sì. Dile che sta il tempo un po' brutto. E oggi il tempo è peggio di ieri. Non è una zona molto frequentata dai turisti. Eccolo lì, il Gallo. Non si vede granché. Con il sole quasi si vede un po' scuro. Mi dà il monumento. Salute agli italiani. Dali. Ma questo cos'è in pratica? Non mi ricordo. Qui va venire al presidente. Ah, venire al presidente. Venire al presidente, questo mi hai detto? No, io lo signo italiano. Ah. Il numero italiano. Ah, il numero romano. No, io lo signo italiano. Il centro della Habana. Mazzate. Adorio Natale. Si chiama come? Qui è il Grain. Si chiama il Grain. Il Grain è la compagnia di musica che si è fatto molti anni fa. Il Grain. E' la sera che fanno musica dal Viego. La musica dal Viego. Si, 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 si. Adesso tranquillo che viviamo con la cugina. Free. Ho mojito all'opera. Vero mojito. Vero mojito all'opera. Vero mojito. Vero mojito. guarda giù della pianta lo che sei la menta per la gangola hai visto che non veni? tu stai lavorando ora? si in il 1223 in il cinema 14 anni e 3,80 e lavorando 15 anni e durmiendo Vibli, non ho vissuto Il video è scendito Il mio ottimo più kiore che monta è quello Io tomo... Mi piace molto il fome È mio mio Il mio è mio è quello che ti ha gustato Sì, 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 sì. la mia cosa è la mia cosa con i piedi non è che si pica tutto è il mio amore è un paladero, è la mia è il tuo lavoro è il tuo lavoro Siamo nel centro dell'Havan, vicino al Capitolio Nazionale. Siamo dall'altra parte del Capitolio Nazionale, andiamo alla via. Cosa poteva non mancare, maggiore.